Sono addirittura di arrivo due cofanetti musicali in edizioni limitate dei The Punch Mod, appartenenti alla Sony Music Entertainment, che usciranno ufficialmente il 14 dicembre 2018. Si intitolano Construction Time Again The Twelve Singles e Some Great Reward The Twelve Singles. Sono delle uscite importanti, nonché fondamentali per la famosa band in questione di The Punch Mod, perché vanno ad offrire una qualità a livello sonoro piacevole da ascoltare e soprattutto di notevole intensità. Oltre ovviamente ad alcuni dei mix più, chiamiamoli, fantasiosi appartenenti a questa band sonora, che ancora oggi sa stupire, sa emozionare e sa garantire emozioni importanti a tutto il nostro paese, l'Italia, e non solo. Bene, complimenti dunque a The Punch Mod, che continuano a regalare emozioni pure, vive, perché stanno davvero emozionare ed incantare. Salutone, il video termina qua. Iscrivetevi e al prossimo da Naratore Italiano.